Ventagli di sfoglia alla mortadella. Facili, veloci e davvero sfiziosi. Per prima cosa stendi un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Spalma il formaggio sulla pasta sfoglia. Distribuisci la mortadella sopra il formaggio. Rotola la sfoglia da ambo i lati. Taglia a fettine il rotolo di sfoglia. Trasferisci in una teglia e inforna a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Sforna i ventagli di sfoglia alla mortadella. Buon appetito! Buon appetito!